WTF 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 andando da solo nono No, niggas Ah, no. And I love you. What's up, boss? What's up, then, up? What's up, dawg? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fuckin' with me, right? Man, we both bein' fuck with, dawg. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfuckin' work I put in, man? Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sittin' up here tryin' to get us... What do you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I won't. And I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When Names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it and need to say, winner. Maybe next month, huh? Then fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, uh, employee of the month. Fuck you, come on. He's about a yes, master ass nigga. Comunque ragazzi, dato che nei video vorrei comunque, oddio che figata quest'auto, vorrei comunque stare zitto, farvi godere quello che dicono. Comunque, quello che si sono detti traducendo in italiano e che questo qua l'ha proclamato, ehm... Comunque, ehm, impiegato del mese, però tu sei incazzato, adesso lo prende per il culo e adesso dobbiamo andare a recuperare una moto che non ha pagato una persona. Cioè, hanno venuto a comprare la moto nel nostro concessionario e poi non ci ha pagato un bastard. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo quasi riusciti ad arrivare dopo, penso, tre morti, perché sono morto altre due volte, sì, sono molto bravo. Comunque, andiamo e vediamo cosa dobbiamo fare. Ok, adesso dobbiamo andare a cercare questa... questa moto. Vediamo. Nessuna moto. Ok, adesso dovremo andare all'azione. Quello è da dietro. Boom. 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 Ok, adesso... Si deve stare attenti. Si deve stare attenti. Ok, adesso andiamo verso di qua. Ah, è là sopra, ok. Ancora un colpo. Bene. Andiamo verso di qua. E li carichiamo. E... Prendiamo un po' di vita. E adesso... Boom. 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 Strage. Abbiamo fatto una strage, ragazzi. Abbiamo fatto una fottutissima strage. Riprendiamo le nostre armi. Grazie. E... E... Prendiamo l'auto. Ah, ok. Ok. Sì, sì. Ok, ok. Vai bene. Preso in pieno petto. Vai, 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 vai. Bella. Ok, ragazzi. Siamo ritornati qua. E... Siamo qua nel cespuglio. Siamo qua nel cespuglio. E stiamo aspettando che non ci cerchino più. Comunque. Speriamo bene. E... Cerco... Ok. Mi hanno ritrovato. Mi hanno trovato. Dai. Bene. Ok. Adesso la cosa importante è arrivare nel punto di destinazione. senza rompere la moto. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ed eccoci finalmente arrivati a nostra destinazione What the fuck? Non lo va Oh ragazzi finalmente siamo riusciti A finire questa missione Quindi ragazzi Io mi ero arreso già tempo fa Comunque Vi chiedo di mettere un mi piace Un commento Di iscrivervi al mio canale Se non siete ancora iscriviti Andate a vedere i miei precedenti video Per avermi spaventato in più Commentate se volete altri video su GTA V Così la serie O volete soltanto un po' di cazzeggio time Quindi ragazzi ci vediamo in un prossimo video Da qui è tutto Plecianelita Bella raga Grazie a tutti